bello a tutti ragazzi e benvenuti su DRM Games, io sono Maurizio e benvenuti all'ennesimo tentativo di registrazione di questa sera siamo qui con Mirko, buonasera ragazzi, Katia, buonasera e Mattia, salve allora noi questa sera siamo di nuovo su Playstation All Star Battle Royale e cosa è successo? abbiamo provato a registrare un paio di volte e è andato sempre tutto a cagare quindi ragazzi scusate se siamo un po' nervosi ma avrebbe essere la quinta puntata noi la quarta dai quarta quindi cerchiamo di fare una cosa veloce casualmente in quei due tentativi io ho dominato nelle vittorie e in uno a... no no non ci sono io guarda che cazzo sto combinando ho schiacciato troppe volte tondo no bananaggiano guarda Kratos, chi cazzo manca? è venuto casuale non è vero manca qualcuno manca Mirko oh pur sto livello che mi ha messo sul cagliore siamo tutti molto rilassati molto molto rilassati allora siamo sempre il 2 Mirko, il 3 Matti no il 3 ah adesso non vi capita più non ci capiamo più il cacchio lo sai ho tutta la sera che giocate uno con l'arancione e l'altro col verde quindi beh beh è una sfida in più come se già non vincendo un minco mai mi metto ancora una sfida in più no ma dai mi chia subito a romperla i coglioni eh olè uno da davanti e uno da dietro il sandwich ma dove sono? ma dai devi che corrivi contro il muro ma dai io stavo guardando eh oh ahia ahia ma ve la prendete quei bambini mi muoio giustamente io muoio ovviamente ti è tanto ti becca anch'io eh perchè devi beccarmi anche a me ti è intanto ciao caglio cazzo ho dato la sfera Mirko ahhh ho formato le sfere del drago cazzo ho fatto niente con camo la saccote ma meglio se non lo usi ma no 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 ma si si vai da kratos cosa succede? oh si ma mi piace stasso in testa e ti faccio anche questo così ma ecco vedi che sto con me allora no 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 eh Mirko dai ferma dammi questo olè tutt'e due ma arcaggio quella troia dove vai a vedere? cammila sicuri come spider almeno dove sto andando? ma perchè io mi parlo sempre no ma perchè? perchè si no Mirko ha preso quella merda ma che cacchio no ma come? ti avevo fatto la presa tiè la fai a me la fai si e te la faccio di nuovo ahahahahah e state buone ma io voglio menare no kratos ma kratos è così buone pacifiche eh certo non dovete starmi male che culo eh io non c'è dal culo ahia mmm cazzo non posso usare la speciale c'è l'ho peccata nessuno e tiè e tiè e tiè cosi in paris ma la smettiti puntellarci queste spade dice ah non sono morto fuoti di fuoti di fuoti di fuoti di fuoti di no no eccomi perfetto no nel fuoco mio 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 no non credo che ho preso qualcuno ho preso ok non mi interessa l'importante è prendere qualcuno dai no hai fatto lo schifo ahahahahah dai dammi un punto no alevia no ho perso allora ok no ma proprio a me ma proprio a me oddio fa cosi ops vabbè preferisco cosi che morire per mano di scratch o c'ho che kratos a livello 2 via no porca ahahahahah no no me te la prendi con me te la stai prendendo con me no te la stai prendendo con me te la stai prendendo con me nooo ne hanno perso sto giro hai perso se quello che avete fatto di più ma cosa olè adesso la persona adesso hai perso oh nooo guarda so nooo grazie di aver pareggiato ragazzi ma che cazzo Ma dai livello 2 La lancia È la lancia di sparta Godetevela È buona Livello 3 Un colpo un livello Ma che stronzata Fuori tutti Io sono leggermente morto Scurricioni Ma dai cazzo Dove sono? No non mi prendi un'altra volta Ma sei matto Ma che cazzo Mi godete ragazzi Madonna Mamma mia Ma dai Non ci credo ma Il Dio della guerra Si è liberata Mi sa che è un po' impossibile Questa potrebbe essere Ma dai Io ci sono pure Cosa incontro Oddio che mattanza Mi sento così in colpo To vaffanculo Tu doveva cosa fai Matti Non gioco Guardi qui Gioca a golf E adesso fai i punti Eh vabbè Dai Ormai Ma dai Oddio Madonna 12 Cioè io pensavo di aver fatto bene Arrivato sto stronzo Con scratchers Io teoricamente i primi due round avremmo perso Madonna santa E Matti non fare lo stronzo Che lo gestiremo Si l'ho colpito L'ho colpito E ho preso anche il livello 1 Via Vaffanculo Ammetto di star godendo Mi Dante Non so usare Sono incazzato Con te Sono contento che questo momento sia stato registrato Ora spero che anche questo file sia corrotto Anche la fanculo Mancanza di mezzi professionali Guardatemi il padre Non porca manca No è tanto ma è beccato No ma dai chi è che sta editando Ma dai cosa sto combinando Cosa fanno quelli di loro Ma porca punta Ah ma quello Dai Cosa stai a cosa fai Niente Ero convita di essere Dante E pure il gioco Contando quello Aglia No no Chiara Katia Chiara Via 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 Salta Minchia No Mi fanno alzare Beccatevi questo Minchia quanta uomiciura Oh Cristo Che culo No Ma chi è Chi è stato io Ma chi è si incassato No Mi cazzo mai Mi ho questo Io Buono Che è Buono 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 Stavolta Domino Io Stavolta Sì Non so C'è No No Cosa è Successo Allora Quale Tra questa No Palermo Siria Siria Sto Siria Dove Saperlo Uncharted Non c'ho mai Giocato Neanche Io Tanto Sbagliate Sicuramente No E' giusto Non ci credo Abbiamo preso solo Grazie a me avete vinto Io l'ho suddissuto Non mi la bloccata Non ho affetti Io No ma sono di no caduto nei pirati Ma ti ho attaccato prima che la face E' un po' di sorve Non ho fatto troppo prima Grazie Oh madonna sta spada Te la infilo tutta la culo Adesso aspetta Guardalo Guardalo Olè Sto giro perso di blu Ti è Ti è Uah Va come giro Yeah Yeah Sì 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 Godo Stavolta Godo io Eh Tanto è un po' Non lo so Eh già Allora prendi Kratos Dai facciamo l'ultima Che sono già 12 minuti Dai Facciamo Dai facciamo l'ultima Prendi Kratos Sarà sfidone del secolo Ah no No Troppo Troppo Vai 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 a fare il figo Prendi Kratos Riccardo Proppo Va bene Ok Poi Avete scelto Moria Eh ma ce ne pentiremmo subito Eh Ve lo ho detto Volevo prendere Sly Cooper Ne Eh non è che sia Prenda meglio Bastardo Eh Noi abbiamo Un odio comune Verso Mirko Perché No io ho perso i personaggi e ci picchia e ci picchia e ci picchia forte avrei tutto arbre amore tu non dice niente non vincere è importante non è vincere partecipare quello di quello di quello che se vi è solo classare agli altri no, che non è vero no, che non è vero poi mi sapeggia amore cosa fa? no, le bombe no au una lancia nel culo lancia da lancia è già a livello 1 si, sembra una stronzata noi veniamo tre ore ah, fa gli attacchi tutti puttenti per quali sono? no, no, dove è? no, ecco no, dobbiamo salire porca vacca, si è menticato grazie prego e di no, che moccimo è un'altra volta qua un bastardo mast no, sono caduto dove eri? ero a livello 1 tanto tempo fa a livello 2 a livello 1 chi è il livello 2 ma non ci posso fare fatemi tutte e due atene 1 no no scusate ma no una cosa solo 1 ma che parte ti è ma come fa? come il fatto è servito che te l'ha fatto davanti è infatti e e' cura no ma dai l'hai fatto apposta perchè non devo farlo opposta no non fate prendere le palline a Mirko io voglio le palline olè chi è stato? io ma che palle no me l'hai fatto sprecare mio 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 no cosa fa? dove l'ho lanciato? no rai ti sta bene continua così matti fuori crata buono così no no non ho preso minchia vince matti oh finalmente finalmente forse vince matti guarda io ho vinto matti guardalo lì va bene oh basta io direi basta per stasera decisamente basta e' speriamo che abbia registrato perchè sennò mi cazzo come la iera veramente sfoscio sfoscio tutto ciao 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 ragazzi ciao ragazzi buona serata e grazie per aver visto il video mi raccomando mettete mi piace commentate iscrivetevi tanti 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 numerosissimi ciao ciao 10 fanculo ciao